Un'iniziativa per simboleggiare attraverso il calcio giovanile ogni forma di violenza femminile. Under 15 meridiana e ragazzini redde in campo unite col volto e con la mente nella diffusione di un ideale da condividere anche e soprattutto nel mondo dello sport. L'abbondante pioggia ha bloccato la meridiana giovedì in occasione del recupero con il Real Trinacria. Un ulteriore rinvio quindi, ragazzini avversario tosto, reduce da due risultati utili di fila in rampa di lancio e appena dietro la squadra di Nico Calì che domenica scorsa ha piegato l'Academy con un largo punteggio. Novità Moschella dall'inizio sull'esterna bassa destra, assente Chiara, Santonocito va in mezzo al campo. Di Maimone, gran sterzata dopo fuga per diversi metri. Parco in rasoterra e Saliu su idea di Lanzanò, le prime avvisaglie lanciate alla porta ospite da parte dei Nerazzurri. L'occasione clou per spaccare la partita al minuto 18. Lanzanò lancia Maimone che telefona a garraffo parata a terra senza patemi. Supremazia e territoriale sì, ma l'1-0 è invece frutto di un contropiede. Libera Moschella parte Pendolino, Lanzanò in corsia. Parco in tre quarti è libero di avanzare qualche metro per scaldare il sinistro e freddare la porta dei Reds. Vantaggio ampiamente meritato a firma di Antonio Parco a metà parziale. Grandissima esecuzione che certifica il gol numero 7 del fantasista della Meridiana. Immense chance per il bis poco dopo. Garozzo apre e chiude. L'accompagnamento è di Saliu. Finta e controfinta. Garraffo salva il 2-0 su botta sicura di Cristiano Garozzo. Qualche istante di ritmi appena più bassi e conto pagato a caro prezzo. Giovanni Occhione scorge. Randiss per l'1-1. Finezza e pareggio della Ragazzini al minuto 27. Beffato Lino Peroso sin qui Pollicano per la serie. Come incassare gol senza aver mai subito l'offensiva avversaria. Risultato tutto da rifare per la Meridiana che rischia di ricascarci. Stavolta per mano anzi per piede sinistro di la porta. Molumentale Pollicano che vola all'incrocio e salva il possibile sorpasso avversario. A questo punto ha cambiato il pneumatico ai box. Si rivede la solita Meridiana. Maimone dette ritmi. Respinge Garraffo il traversone. Garozzo ha un muro davanti la porta. Trentaquattresimo. Parco per Caporarello che si propone in avanti. Saliu incontenibile. All'origine sembra far da assist man ma il suo cross a pennello. Si trasforma in un pallonetto che fa scattare sul tabellone. Il 2-1 a favore della Meridiana. Grandissimo, immenso Saliu. Gol numero 16 in stagione ed entusiasmo ritrovato dopo qualche fantasma di passaggio al Seminara. Ragazzini in tilt. Saliu. Maimone evitato dall'estremo ospite. Il terzo gol. Secondo tempo. Saliu a muro su un tentativo di disimpegno avversario. Quindi una giocata che lo esalta tra finte, frenate e ricerca di spazi al limite dell'area. Sale intanto Garozzo. Prolunga per la corrente. Mario Maimone. 3-1 Meridiana. Gol numero 9 di Maimone che risponde così al suo gemello di reparto. Coralità. Strappa applausi del trio in cattedra di questa manovra. A tutto gas. Intanto Nico Calì chiama Moschella e manda Laguzzi in campo. Non conosce ostacoli. Intanto Garozzo. In mezzo al terreno di gioco. Sale a sinistra Lanzanò. La mira è giusta alla traiettoria che prende il pallone. Un po' meno. Garozzo. E tra i protagonisti Passarella a metà tempo. Lascia il campo. Va dentro Romano. Blackout. Senza preavviso per la Meridiana. Il secondo della domenica. La Ragazzini è libera di orchestrare e gestire sulla tre quarti. Ne nasce un bellissimo gol del Leo entrato. Licciardello. Tre a due. Più emozioni sì. Ma i rischi di farsi beffare. A un quarto d'ora dalla fine si materializzano sul fronte. Nero azzurro. Dunque rimarciare a testa bassa. Caporarello. Apre. Su. Lanzanò. In mezzo per Romano. Diagonali a ripetizione. Saliù. Soluzione a raso che non sfonda. Lo stesso 29 Meridiana. Se ne va in corsia. Cross perfetto per Romano che spedisce alto. Cinque al termine. Parco per dare il lifting al pallone. Sul calcio da fermo. Maimone. Sfortuna che ingombe sul palo. Santo Nocito è lì. Quattro a due Meridiana. Maimone. Condorelli. E caporarello Giuffrida. Staffette finali dalle parti di Nico Calì. Finisce con altri tre punti per la Meridiana che sale a quota 21. Non senza soffrire battendo. Quattro a due la Ragazzini. E domenica. A Mascaluccia. Sfida alla Team Sport. Sì. Potevamo evitare sicuramente quel gol. Perché loro hanno avuto poche occasioni rispetto a noi. Dovevamo essere diciamo più concreti nella fase offensiva. Dobbiamo stare più attenti sicuramente a centrocampo quando difendiamo. Io.